amici di youtube io sono davidinet e benvenuti nel mio canale ripartiamo con questa seconda parte l'indanno di greg il covo dei ladri un chart collection ripartiamo con questa seconda parte con un piccolo riepilogo infatti ripartiamo da queste famose scale quindi partiamo in anticipo dall'ultimo salvataggio di gioco con un piccolo riepilogo ripartendo un po in precedenza da dove ci siamo fermati continuiamo questo episodio che si preannuncio molto scoppiettante perché dobbiamo affrontare il super bolider di quella elicottero da guerra ragazzi che dobbiamo assolutamente sconviggere per concludere la parte di questa nostra avventura buona visione a tutti e che speriamo tutto vada bene ragazzi granata maledizione ok li abbiamo sconfitti tutti mi sembra non c'è più nessuno via libera a questo punto prendiamoci le armi la bomba abbassiamo il ponte perché dobbiamo andare dall'altra parte meno male che c'è questo fondo altrimenti non so come potevamo fare ok vediamo se c'è qualcun altro ok penso che li abbiamo sconfitti tutti ricarichiamoci con altre armi ok buttiamoci qui sì penso che ci dobbiamo buttare qui ragazzi perché non so da da quest'altra parte poi dove si va vediamo un attimino ok no qui non c'è niente che ci possa servire allora buttiamoci da qui bene ok ah caspita ecco l'elicottero il super bolide uno un colpo ce l'abbiamo dato due colpi tre colpi ok ci servono ancora altre armi mettiamo il fissile dobbiamo stare veramente attenti qua non stiamo a sicuro buttiamoci qui sopra ci sono altre persone ovviamente da uccidere uno eh sì questo voleva fare furbo prendiamo di nuovo la super arma e ripuntiamo di nuovo accidenti ragazzi abbiamo mancato questo elicottero stavolta l'abbiamo colpito però abbiamo finito le munizioni quindi prendiamo la mitraglietta qui però abbiamo bisogno di nuovo di quell'arma altrimenti non possiamo sconfiggere questo elicottero ok non dobbiamo andare più su questo bow su questo come si chiama su questo ponte aspettiamo un elicottero che io non lo vedo più dove sta dove sta dove sta eccolo qui lo sento ah vabbè tu stia là sopra non ci serve ecco dove sei dove sei eccolo ok l'abbiamo colpito di nuovo un altro colpo benissimo ancora un altro colpo caspita ma questo non affonta mai questo bolide ci serve di nuovo quest'arma non so quanti colpi ci stiamo dando ragazzi veramente ok e ancora non è morto incredibile non so quanti colpi gli sto dando ok ancora un altro colpo ma non è caduta ancora e ci serve di nuovo sempre di nuovo quell'arma eccola qui fortunatamente ne abbiamo un'altra disposizione quindi abbiamo altri quattro colpi a disposizione veramente non affonda mai incredibile 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 eccolo qui eccolo qui dai dai ok l'ho colpito ragazzi e finalmente abbiamo abbattuto questo bolide da guerra finalmente ragazzi ce l'abbiamo fatto e con questa vittoria dopo aver sconfitto questo bolide da guerra si conclude l'episodio di unichart collection il copo dei ladri l'inganno di drake e abbiamo terminato questa demo una demo veramente entusiasmante dove ho potuto capire che abbiamo una grafica stupenda gioco stupendo e per chi ama l'avventura davvero non può mancare questo gioco unichart collection l'inganno di drake il copo dei ladri amici penso che la demo dice tutto e penso che veramente vale la pena provare e giocare a questo gioco che veramente vi terrà incollati allo schermo della vostra playstation 4 grazie di tutto per chi non ha visto la prima parte cliccate il link questa è la seconda parte del video e niente ci vediamo al prossimo video al prossimo gioco grazie iscriveteci pollice in su lasciate un commento grazie a tutti alla prossima ciao da davide net grazie a tutti